Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Shiva in questo nuovo video di Minecraft Siamo sul Modpack Age of Engineering con alcune mod aggiunte da parte mia Dunque, io volevo, come avevo detto nello scorso episodio, volevo fare appunto il sistema di energia della canola Che si suddivide in tre tier Il primo si fa molto semplicemente usando la canola press, il fermenting barrel, il generator, la cloche E il secondo tier si passa con l'automine construction, il terzo con l'empowered Però adesso non è utile spiegare perché tanto ve lo faccio vedere La cosa che più è problematica che io volevo fare, vi ricordate, grazie a questo, di Overclocker Il problema degli Overclocker, che mi serve, mi servono queste che sono andato a prendere, vi ricordate Da quel coso che ho smantellato qua, l'ertic eater Il problema di base è che queste qui le devo fare blu, con lapislazzoli devo farle Il problema, eccole qua, con queste qua Il problema è che questo qui vuole il lapislazzolo L'ho finito, l'avevo messo da crashare da qualche parte, non mi ricordo più dove l'ho messo Qua ne ho dieci, ho finito per lapislazzoli, quindi dobbiamo andare a scavare O andiamo avanti, per non fare, cioè non facciamo per adesso gli upgrade, gli Overclocker, scusate, non mi veniva E andiamo a fare direttamente il sistema di energia della canola Che ci vuole la canola, press Ecco, io vorrei fare una cosa grande Non vorrei partire dal basso, cioè nel senso, una volta che la faccio la voglio fare grande Dopo cambieremo i cavi, perché comunque questi cavi portano poco E un altro paio di manche Comunque voglio iniziare già facendone tre o quattro di questi Il problema di base, che questi qui ci vanno dopo assieme ai fermenting Fermenting Barrel, che ce ne vanno o tre o quattro l'una Quindi se ne faccio quattro, esempio di o tre o quattro, non so di quanti ne faranno di canola press Mi devo moltiplicare o per tre o per quattro E non è neanche quello, perché si fanno, guardate, è una cacata farli Il problema dopo sarà l'oil generator, perché comunque devo generare Generator, che sono scritto, non lo so Eccolo qua Che si fa, che non è difficile neanche fare questo Perché ci vuole dare un casing, che sappiamo bene come si fa C'è un po' di impattirci E siamo a posto Il problema di base è la cloche Cloche La cloche, che ne devo fare almeno tre di queste Che si fa con questo, che dai, si fa abbastanza bene Questi qui si fanno bene, questi qui si fanno bene Il Farmer Per fare il Farmer mi ci vuole L'Empowered Canola, che non è un problema L'Enole Crystal, non è un problema L'Anchisi, che non è un problema L'Advancer Greenhouse Per fare l'Advancer Greenhouse ci vuole il Basic Greenhouse Ma per fare il La Waking Diamond Basta avere il Scientific Calculator E per fare il Large Tanzanite Mi ci vuole per forza L'Algorithmic Separator Per fare l'Algorithmic Separator Mi ci vuole un fumo di roba Tra l'altro l'Enforzer Iron Block Che non è un problema La facciamo con La Calculator Base Quindi abbiamo già le cose Il Power Cube lo facciamo con la Calculator Base Quindi non c'è problema Il problema è questo L'Empowered Diamantic Crystal Per fare l'Empowered Diamantic Crystal Bisogna empowerarlo Abbiamo questo, l'abbiamo preso nel Nether E non c'è problema Questo è il Fertilizer, non c'è problema Questo è l'Ash Basta cuocere il Pit Che ne abbiamo preso un sacco Nello scorso episodio O due episodi fa E questo è niente Poi ci vuole il Lithium Allora per fare già questo Basta usare un Diamante Ne ho pochi ragazzi Però alla fine si fa Il problema di base è questo Il Lithium Per fare il Lithium Mi serve Il Per fare il Lithium Mi serve questo Il Tiny Pile Per fare il Tiny Pile Mi ci vuole La Therma Centrifuge Eh che cavolo Per fare la Therma Centrifuge Mi serve Il Lingotto di Ferro Non è un problema Advanced Non è un problema Il Motor Non è un problema Mi ci vuole questo Il Mining Laser Per fare il Mining Laser Mi ci vuole il Compressor Con 9 di questi Che si fanno con altri Diamanti Quindi andremo quasi a finirli Ma non è neanche questo problema Questi li abbiamo già fatti Questi non è un problema Ci vuole l'Advancer Circuit Per fare l'Advancer Circuit Ci vuole il Circuit Basia Che li abbiamo già fatti Ci vuole la Polvere di Munite Che non è niente L'Empowered Crystal Che non è un problema Si fa con queste cose qui Che abbiamo già Questo breve l'ho preso L'Arzita L'abbiamo preso nel Nether Basta polverizzarla E cuocerla E questo non è un problema È un po' lungo Ma si fa il Poppy Adesso grazie al Macerator Non abbiamo problemi di farlo Il problema è questo L'Empowered Palace Crystal Per fare l'Empowered Palace Crystal Si vuole questo Che va nell'Atomic Reconstruction Ci va Se non ricordo male Il Quarzo Il Cobalto Li abbiamo preso a fare Il Pesce Lo dobbiamo pescare Il Blue Slime Ci tocca andare a trovare il Slime Perché per fare questo Si fa questo Che bisogna avere Quattro Slime Ball Blu E vabbè Dopo la sabbia E la dirt Quindi devo andare a trovare Il Slime Devo andare a pescare E come se non bastasse Mi manca anche il Lapis Quindi siamo nella cacca più assurda Con il Lapis Per fare quindi Queste cose qua Mi toccherà andare a scavare Ma per andare a scavare Ho già gli strumenti Perché ho un cavo qua Non me lo ricordo più Il problema non è andare a scavare Vediamo qua Vedete che Questi qui li avevamo presi Li ho messi qua E la ditta è qua Non c'è problema Mi manca Quella roba Rossa Che ho nel magazzino Guardo adesso Sono tutti i materiali Perché quando andrò Dopo a fare Quello che devo fare Devo essere sicuro Di avere tutto Eccoli qui Sono questi E quindi non c'è problema Il Popi ne ho uno Ma ne ho un altro qua Che adesso vado a macerare Così siamo a posto E non dobbiamo più pensarci Ecco qua Ho messo da fare un po' di roba Logicamente Perché se no Qui non esco più E me ne ho altri tre E quindi su quello Non c'è problema Andiamo un attimo A cuocerele E siamo a posto L'unica cosa Che più mi preme Qui ho messo Quello che è avanzato Cosando i Come si chiamano Il ferro Allora Adesso mettiamo via Un po' di cose Perché tanto ci serviranno dopo Metto via l'apis Metto via questo Metto via il popi Cos'altro Che la canola Le metto tutte quante qua Perché dopo le dovremo usare E quindi Poco importa Qui sta facendo Adesso le faccio Devo andare a pescare Fare la canola da pescare Non è un problema Un pozzo d'acqua Lo trovo ovunque Il problema più grande È Appunto Dunque era questo L'algorith separator Che per fare questo Devo fare questo Che per fare questo No scusate Sì Per fare questo Mi serve appunto questo Che per fare questo Ecco il centro filo Mi veniva a mettere il nome Il problema sarà questo Perché Scusate ho sbagliato Per fare l'advance Mi serve Ecco questo qui Dovevo arrivare a questo Lo slime Devo andare a prendere Lo slime Ed è un problema Devo andarlo a cercare E poi devo andare a prendere Slapis Quindi per fare questo Stavo dicendo Scusate se mi sono Ho divagato Ma stavo dimenticando Cosa dire Ho la roba per scavare Il problema È che ci metterei Tanto Ci metterei troppo E quello è il problema Di base Allora per evitare Questo problemino Avevo intenzione Di fare con la tinker Una bella cosa Qui sono pieno Fare il martello Il martello che scava 3x3 Mi aiuterà parecchio A riuscire a trovare Il lapislazzo lì E riuscire magari A trovare un po' d'oro Perché Ne serviva tanto Di oro Adesso Grazie al ferro Che macino Me ne da un po' Di questo sono contento Perché questo è tutto oro gratis Sono riuscito ad arrivare A 139 Quindi niente che dire Ma purtroppo Come vedete Di oro Di ferro Di macerare L'ho quasi finito Sono ridotto Proprio all'osso Il lapis L'ho finito Era qua E quindi Andrei a fare Della tinker Quella bella cosa Che ho detto Il martellozzo Il martellozzo Come si fa Vi faccio vedere subito Scusate Mi sono perso Attivamente Sono distratto Allora Per fare il martellozzo Serve Dunque Vediamo un po' Lo trovo Lo trovo Eccolo l'ultimo Fare il martellozzo Serve alla testa di martello Allora Prima di tutto Vediamo come si fa Così almeno Non lo posso fare Perché non lo posso fare? Perché devo fare Il tool station Rinforzato Vedete che Il problema Di questo gioco Di questo pack Che per fare ogni cosa Devo fare altre 50.000 Eccola qui La tool station rinforzata La tool station rinforzata Si chiama tool forge Non mi veniva Come si chiamava Scusate Forge Perché l'ho scritto Attaccato Logicamente Non me lo prende Forge Per fare la tool forge Mi serve Allora Le dense steel plate Non è un problema Mi serve la tool station normale E Questo qui Si faceva Non mi ricordo Come si faceva Ah I brick Di quelli là Tre di questi Va bene Ce li abbiamo tre Eh lo so Qui c'è molto da fare ragazzi C'è veramente tanto da fare Eh Devo farli Perché ne ho pochissimi Che culo Che culo anche questo Allora Per fare questo Ci serve il growth Per fare il growth Mi serve La ghiaia La sabbia L'argilla L'argilla Allora se ne facciamo due Facciamo tre Va La sabbia Ce n'ho Uno stacco Va bene E la ghiaia Ce l'ho Oh Meno male Meno quelle Ce n'ho cavoli Era un bel casino Eccolo qua Otto No facciamone di più Facciamone tutte Così sono apposta Le vado a cuocere Ragazzi c'è da morire A fare questo pack Veramente c'è Da fare Ottomila miliardi di crafting E buio E mi arriva la gente Meglio che vado a dormire Devo farmi un letto vicino Perché se no È un casino Bene Allora Rilassiamoci Pensiamo bene al da farsi Devo andare a fare A cuocerli Eh ci sarà un po' da fare Però Sono abbastanza positivo Perché ho messo la ghiaia Non lo so Me lo dovete spiegare Ok Sto facendo questi Così almeno Tre di questi Li faccio sicuro Ne faccio un po' di più Perché se servono Devo ampliare un po' la 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 cosa Non ho problemi Quindi ne servivano tre Ecco qui Tre Ok E questa è andata Tre di questi Adesso mi servono Le still dance play Le still dance play Ho Dunque Ne servono nove Ognuno Ma mamma mia Quante No 18 36 Tu mi vuoi tanto male Vero perché io non ci arrivo neanche 36 Cioè ci arrivo ma vuol dire che mi hai voluto tanto male tu Ma proprio tanto Ehm Compresso Eh per fare questa Mi ci vuole un bel casino Ehm Accidenti Adesso vado a prendere un po' di plate Le vado a fare Perché di Ehm Dove sto andando Mi sto ricoglionendo Ehm Di still Perché se no Qui siamo messi proprio male Quanto ne ho di still Eh Non è che ne abbia tanti Ehm Di still Porca miseria È una pessima notizia Eh purtroppo Ragazzi bisogna che faccia Mi dia una mossa Ah ma Dato ho fatto queste A fare un po' di cose Perché Se avessi male Una l'ha fatta Due l'ha fatta Dato che fa Ne fa altri due Ehm Facciamo la forge La tool forge Tanto andiamo a prenderci quella Che tanto mi servirà Ho dato una craniata Ehm Oddio mi perdo Ormai mi sto prendendo Ho fatto troppe stanze E naturalmente Ho preso quella sbagliata Che bello Sono felicio Allora Qua la tool forge Tool station Via Prendiamola Bene Andiamo a cambiarla E a potenziarla Ehm Era di qua Mamma mia Devo mettere i cartelli I segnali Perché non mi trovo più Devo gestirmi in modo diverso Allora Queste sono fatte Perfetto Andiamo a fare la tool forge Ed ecco Finalmente l'abbiamo fatta Adesso possiamo Abbiamo accesso Finalmente A A fare il martellozzo Il martellozzo Mi servirà parecchio Continuo a sbagliare strada Io sono In recuperabile Eccolo qua Il martello finalmente Ci servono due teste Una testa normale E il Quella piccola Che è quella piccolina Allora Mi serve Le due teste Questa Basta farne una Lo faccio doppio Dopo mi serve Da fare lo stampo Allora Le due teste Quello sottile Che era questo Se non sbaglio Perché Era quello più lungo Quello Vediamo se è quello A meno Qua Perché non me lo ricordo più Sinceramente Vediamo un po' Martello Era quello Con la virgola sopra Va bene Quello con la virgola sopra Non è questo Ma è questo Esatto È quello più grande Ok Perché questo È la tool road Questa è la Taut road Ok Mettiamole pure qua E siamo a posto Adesso Che ho fatto Tutto Sì Mi manca la testa La testa Dov'è finita La testa Eccola qua E abbiamo fatto anche questa Mamma mia Mamma mia Abbiamo fatto tutto Adesso Devo andare A fare Con la testa Devo fare I stampi O se no Facciamo che lo faccio Di ossidiana E così sono tranquillo Tanto di ossidiana Ne ho Quanta ne vuoi Proviamo a fare così Vediamo se succede qualcosa La testa di ossidiana Quanto mi dà Scava cobalto No Però io ho bisogno Che mi scavi Non mi interessa Che mi scavi Insomma I materiali Mi interessa Che mi scavi Le pareti Perché vi spiego Per i materiali Ho già il nostro piccone Con fortuna E tanti saluti Quindi io ci metterei La cobblestone Che naturalmente Non ho Eccidenti a me Allora Mettiamo a posto La ghiaia Mettiamo a posto La sabbia Quella lì E mi serve la cobblestone Bene Allora Stavo dicendo Che mi serve In cobblestone Va bene Poi Mi serve Questa qui E la faccio Con Questo Mi serve Un'altra Due Che bello Sono felicio La potrei fare Anche in carta Però Vabbè Proviamo a farla così E Ho messo Due Due E poi Le teste Le piastre Le piastre Questa si chiama La plate Della tinker Plate Plate Della tinker Esco un attimo Buonanotte Eh lo so È un po' Un casino Però una volta Che lo facciamo Siamo tranquilli Vediamo in cosa La posso fare Se la facessi in bronzo Se lo trovo La faccio in bronzo Dai la faccio in bronzo Non lo trovo Adesso il bronzo Qui Large plate Vediamo se mi fa fare Il bronzo Eccola qua In bronzo È l'unica a farla In bronzo E tanti saluti Va bene Allora Mi tocca fare Sempre Lo stampo Perché se no Con cavolo Che lo faccio Va bene E quanti ne ho fatti Mamma mia Sono un po' più Rincoglionito oggi Va bene Facciamo i vari I pezzi Allora Questo Cosa sto facendo Una qua Mi serve Il Come si chiama Quello che ho messo Da parte L'aluminum brass Aluminum brass Mi tocca metterlo qua Così lo rifaccio E ho gli stampi Quindi faccio Uno stampo di questo Uno stampo di questo Uno stampo di questo E il martello Dovrebbe essere a posto E dopo vado Con i materiali Mi serve il bronzo Il bronzo ce l'ho Adesso ho da mettere a posto Il copper intanto Eh c'è un po' da fare C'è un po' da fare Però almeno dai Sono contento Perché Stiamo andando avanti Piano piano Ci vuole tempo Lo so Ma io Non vi consiglio mai Di avere fretta Con questi pack Perché È bello Andare anche così Ok Questa l'abbiamo fatta Poi Allora questa la butto via Perché tanto non serve Mettiamo questa Facciamo anche questo Lo stampo Speriamo che mi basti A questo punto Otto ingot Si dovrebbe bastare E anche questa è fatta Ci manca questo E facciamo lo stampo Perfetto Gli stampi E abbiamo fatti di tutto Adesso Dovevo fare due di queste E li voglio fare in bronzo Il bronzo Non l'ho ancora messo Perché stavo parlando E logicamente Non me lo fai Perché la faccio in bronzo Perché così Più è facile per me Ripararlo Senza far cadere niente Grazie Allora Vediamo un po' Quindi sono rimasti Sette lingotti Mi va bene lo stesso Ok bronzo E adesso Scendiamo qui Ne servono due Tanto Con questo martello Non mi interessa fare Scavi Eccetera Mi interessa mettere Upgrade Non mi interessa fare niente Mi interessa più che altro Madonna quanto bronzo Mi hai usato Sei un animale Me ne hai usato un sacco Mi interessa più che altro Scavare veloce Quindi ci metterò la redstone Come potenziamento Poi quando arrivo ai materiali Dopo lì un altro paio di maniche Useremo la nostra bella cosa Allora intanto Prendiamo questa Una testa ce l'abbiamo Eh Me ne serve un'altra E poi dopo andrò a fare La testa normale Dai che abbiamo quasi fatto Dai Sono abbastanza contento Di fare questo Che è lo che devo fare Allora Facciamo così E poi aspettiamo Che si affreddi Dai su Madonna ci mette una vita Aspettiamo che si affreddi un attimo E prendiamola Poi adesso ci serve la testa Testa E la facciamo sempre di bronzo Vediamo quanto ne è rimasto di bronzo Perché me ne hai usato tantissimo 8 ingot E quindi va bene Adesso possiamo anche tranquillamente Fare il Il pezzo sotto Ma facciamo di bronzo tutto Chi se ne frega Così siamo a posto E non dobbiamo stare impazzire Tanti saluti a tutti Non viene un gran martello Però mi interessa che sia veloce Che lo riparo con niente Quindi Si Cosa c'è Ah Mi hai finito il bronzo Che simpatico che sei Sei veramente simpatico Allora Bronzo Me ne hai usato tantissimo Va bene E purtroppo È dispendioso Però si può riparare Alla fine una volta fatto Tanti saluti a tutti Questo qui è il molten Se non potremmo farlo in silver O solo in iron Potremmo farlo anche in iron Ma vabbè Facciamo tutto in bronzo Chi se ne frega Così almeno Non ho problemi Vediamo Ok Bronzo E vai E adesso facciamo anche questo Così lo possiamo finalmente fare E tanti saluti Me ne hai usato un fotio Vabbè Sarei solo due lingotti Vabbè Ok Adesso questa roba qui Però adesso la metterò qua Dopo devo sistemarla Allora Nostro martellozzo Oh dio Facciamo così Naturalmente l'ho bello messo Facciamo così E facciamo così Ehm Non ha Ehm Ha 1357 usi Non è tanto Infatti ci andrò a mettere subito Un Ehm Money speed 2 Attack 5 modifiche 3 Va bene Io lo chiamerei Spacco De Ok E questo è il nostro bel martellozzo Che adesso andrò a Mh 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 Subito Un diamante Troppo ne ho pochissimi Ma adesso li cercheremo Il mio bel diamantozzo Ehm Quanto è rimasti 15 Mamma mia che tristezza Mi sono rimasti 15 diamanti Andiamo subito a metterne uno qua Così vi porti a 1800 500 in più Pazienza Adesso Gli vado a fare la velocità Con questi Con questo Ehm Da più 18 di speed Adesso andiamo a riprendere un bel po' Perché Ehm Così almeno Sono più tranquillo Anzi facciamone 2 3 E così Lo faccio super mega veloce E tanti saluti Facciamo una bella cosa Per fare prima Ehm Sì è l'unica cosa Secondo me La cosa migliore Così siamo veloci Non perdiamo altro tempo E tanti saluti Allora Vediamo un po' Facciamo così Mi arriva subito 99 Ehm Dove me l'hai messo Ehm Io vado tutto avanti Con questo Eh ragazzi Perché Lo voglio veloce Non voglio Voglio poche storie Voglio che sia veloce Tanto L'abbiamo per fare il resto Ehm Mining speed Va da da 7 30 E passa Dovremmo essere a posto Non dovrebbe darvele più No me ne dà ancora Quanto cavolo di speed C'hai Ah perché lui è 99 Scusate Non riesce ad arrivarci Se no C'è Ecco Adesso siamo A uno speed Eh Mining level obsidiana Quindi siamo a cavallo E tanti saluti Lo ripariamo con una cacata E questa è la cosa più importante Adesso vi faccio vedere Che figata che è Allora Mettiamo a posto questi Perché ne ho presi troppi Come al solito Ok Questo qua Le piastre le mettiamo via Perché se no Dopo non so più che farci E' fatto buio di nuovo Tanto fa sempre buio Quando registro io E niente Purtroppo per fare la canola Accidenti Doviamo veramente impazzire Ehm Disprese andare a scavare Perché volevo Utilizzare la mia roba Che avevo Che Ho scavato per tanto Però Mi mancano alcune cose Vedete Alla fine Sì ce ne ho molte Perché ne ho tante Mi ero premonito abbastanza Ma non pensavo Mettendo quella fortuna Con quel piccone Che avevamo messo via Mi ha Prosciugato Il lapislazzuli Che è questo Che servirà E lo voglio usare Allora Io le metterei fuori Tutte e tre Poi Mettiamo via Nella nostra bug Qui Un po' di roba Così Allora Mangiare mi serve Se no Col cavolo che riesco a fare Questo mettiamo via E andiamo un po' A farvi vedere Come funziona E come ho l'intenzione Di fare lo schiavo io Andiamo nel mining Level Nel mondo di mining E dunque Voglio vedere Il lapis Esattamente Dove lo troviamo Lapis Il lapis Dove è il blocco Di lapis E qui Lo troviamo Nell'open world Esattamente Non mi dice Quello del mining Ma penso sia la stessa cosa A livello Scusate 14 15 Togliamo 9% Quindi dobbiamo scendere Un bel po' A livello 15 Andiamo un po' A trovare una caverna Che dovrebbe essere Da queste parti qui E andiamo a livello 15 Adesso vi faccio vedere Cosa voglio fare Perché è l'unico modo Fare il branch mining Con il martello Perché scava Un 3x3 E questo Oh mi interessa Buon mil grazie E il 3x3 Sarà una cosa molto utile Perché facciamo prima 1 E perché Se no È veramente un morire Un'entrata Ci sarebbe Senza sfracellarmi No Perché qui mi sfracello E quindi Devo chiudere quel posto Perché se per sbaglio Vado Vabbè che c'è Eccolo qui Non ho ancora trovato Una cavolo di entrata Porca miseria Oh Incredibile Quando cerchi le cose Che hai fretta Non trovi mai nulla Vediamo un po' Qui dovrebbe esserci Un'entrata Si Oh Aia Non c'è niente C'è È un'entrata Del casso Proprio Oh qua Allora Per usare Come dicevo Questi Materiali Oddio Mi hai fatto Uno scavo Incredibile E Guardate Allora Prima di tutto Non riesco a uscirne Facciamo così Come vedete Scava È troppo bello Allora Togliamo un po' di roba Avvitiamo un po' di roba Qua E La roba qua Così a meno Vado All'altezza Che devo andare Prima di tutto Esco da sto buco Che mi sono infilato Scripper esplodi qua Grazie Così non rompi le palle Perfetto Mi hai fatto un bel buco Così siamo tutti contenti Non c'è niente Come al solito Io prendo buchi Che non si va Mai da nessuna parte Allora Allora non c'è tempo Ragazzi Di fare cretinate Quindi andrei Giù così Vado giù così Adesso c'è l'acqua Porca di quella troia Scusate ma Quando ci vuole Ci vuole Ma porca miseria Ecco la lagata Della miseria Allora Togliamo St'acqua del cavolo Oh Così Adesso andiamo giù Andiamo giù E voglio andare a questo livello Che ha detto lui Così almeno Sono più tranquillo Naturalmente ho beccato Figurati se non beccavo la terra Cosa ci fa la terra qui Ma porca miseria Ah Devi fare qualcosa Non riesci mai a farlo Ok Una caverna Vediamo un po' Scendiamo Ecco Subito ad attaccarmi Figuriamoci Benissimo No Te adesso vai via Perché mi stai stancando Allora Po Posto Allora Usiamo il nostro Piccone Per fare Ecco è arrivato Il creeper Figuriamoci Se non mi rompeva le scatole Allora Mangiamo Bene Andiamo via Qui c'è un po' di roba Devo mettere le luci Perché se no Mi bagattano Allora Vi ho detto A livello 12 Io sono a livello 63 Dovrò scendere parecchio Quindi Inblocchiamoci le maniche E scendiamo Andiamo Da questa direzione qui Lo so che è brutto Scendere così Ma non ho tempo Di cercare altro Tanto quello che trovo Lo prendo tutto Perché Mi servirà sicuramente Allora Scendiamo con calma Dai Non stiamo a Preoccuparci più di tanto Ho detto che Dovemmo andare a livello 12 Ci siamo a 52 Ancora ci vorrà un po' Però a meno così A quel livello Sono sicuro di trovare l'oro Sono sicuro di trovare i diamanti Il Diverse cose Che non mi dispiace Come vedete è velocissimo E sono contento di questo Quanto siamo? Livello 29 Non vedo niente però Allora Andiamo un altro po' giù Ok Siamo a livello 20 Abbiamo detto che serviva Il livello Di 15 Quindi ancora un altro po' Vediamo un po' 18 Lo so che scavare così è brutto Perché sento anche la Oh cavoli Avete visto? Vai subito Madonna che culo Vai Oh Quanti ne ho presi 11 ragazzi avete visto Questa è una cosa bellissima Perché ho voluto farlo in camera Perché Se trovavo un po' di roba Dopo c'era sempre dubbio L'ho trovata L'ho trovata E allora facciamo così Tanti saluti Allora Andiamo un altro po' avanti Perché devo arrivare A livello 12 Livello 12 E 14 Qua 13 12 Perfetto Adesso volevo fare Il bench buying così Lo sca Allora Per fare questi Usiamo sempre questi Perché ne voglio tanta 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 di roba Perché ho fatto fatica A fare quel martello Quel piccone E lo voglio Sfruttare Allora vediamo cosa c'è Di particolare Vorrei fare Una caverna così Il carbone ci serve E vi faccio vedere perché Facendo così Ne faccio Oddio Eh lo so Mi devo fermare in tempo Però quanto ce ne da in più Ce ne da tanto Volevo fare questo Mi faccio vedere Vado avanti un altro po' Così faccio delle caverne Delle gallerie Che hanno senso di esistere Allora Qui ho visto qualcosa di interessante Questo non parte il bonus Però comunque mi parte Che mi interessa prendere Ho finalmente un po' Un po' di roba Allora mettiamo via un po' di cose Perché se no Non ci capisco niente L'esubero Questo 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 L'adnestone Non mi serve Con il basalto Questo Tutta A meno così Capisco qualcosa Allora Stavo dicendo Voglio fare Allora Prima di tutto Prendiamo questo Voglio Ah oro Bello Madonna che bello Sono contento Ecco Stavo dicendo Che voglio fare così Guardate Questa la sposto Volevo fare esattamente questo Fare di tre No Di quattro La sanne due Esatto Faccio delle caverne così Delle gallerie così In modo da avere La visuale da questa parte Se c'è qualcosa E la visuale da quest'altra parte Se c'è qualcosa Bene Andiamo un po' avanti E così dopo Vediamo cosa troviamo Di bello E Appena c'è qualcosa Di interessante Tipo questo Usiamo il nostro bel piccono Con super mega fortuna Eh si Molto Molto meglio Ragazzi Avete visto quanti diamanti Era ora Che usassimo qualcosa Allora Quando non c'è bisogno Di usare il piccone col bonus Non lo uso Inutile Con queste cose Non c'è bisogno Con queste si ad esempio Lo uso Perché il carbone mi serve Guardate quanto ne ho preso Una roba esagerata Ok Questa roba qui La prenderò tutta col piccone Normale Non c'è bisogno di usare l'altro E adesso Incominciamo a cubrire un po' di buchi Perché se no Io non riesco più a camminare Bene Dai Avete capito cosa voglio fare Adesso vado un po' Off camera Quando c'è qualcosa Faccio la clip Così non c'è problema Ve la faccio vedere Perché se no Sto solo a scavare Voi mi annoiate Logicamente Non è che sia molto divertente Guardarmi Wow Interessante Allora Qui facciamo così Quanto ve ne ho dato Spero tanto Sono quasi due stack E sono contentissimo di questo Come vedete E c'è tanta tanta roba Sono contento di prenderla Perché mi serve tutta Oh Eeeh Questo cos'è? Argento Non è che mi serva Però Serve quasi tutto Io non ho ancora trovato Però il lapislazzuli È incredibile Sono all'altezza Che mi ha chiesto lui E ancora il lapislazzuli Non l'ho trovato Eeeh Niente Andiamo un altro po' avanti E vediamo se lo trovo Perché voglio trovarlo con voi Così almeno vi faccio vedere Quanto me ne da Eeeh Quindi Abbiamo fatto Devo andare avanti Ancora di Così No Un altro E andiamo avanti così Allora Mettiamo una luce Perché serve sempre A meno così Non ci sono i mob Perché metto la luce ogni tanto Come vedete Di redstone Ne trovo tantissima Eeeh Un po' di Carbone Grazie Un po' di stick Che ho messo Nel slot secondario Eccoli qua Così li vado a usare E come stavo dicendo Arrivano i mob Eeeh Beh L'ho appena detto Mi sembra più che giusto Che arrivino a trovarmi Allora Vediamo dove sono E perché sono venuti Perché non ho messo abbastanza Luci Vero O perché c'è una caverna Esistente Non le vedo adesso Perché avete Non le vedo Non so dove siano Vabbè Non importa Andiamo avanti Perché voglio trovare Assolutamente Lo voglio trovare Assolutamente In lapislazzoli Eh si Ciao Allora Qui è la resto Usiamo il nostro bel piccone Con fortuna Mamma mia Quanto ce ne da Sono felice Di questo Perché adesso I materiali Diciamo che ci danno Esperienza Sono tanti Il piccone Mi livella E questa è la cosa Migliore Eeeh Quindi con il livello Dopo posso mettere Qualcosa di interessante Dai Eeeh Allora Questo qui Oh Questo qui serve Perfetto Oh Lapis Non l'ho ancora trovato Eeeh Sono venuto per trovare Lapis Ho trovato i diamanti Credibile Che ho detto sempre I diamanti Non Li trovo mai Adesso che vengo a trovare Il lapis Che dovrei trovarlo sempre Trovo i diamanti Mi sembra più che giusto Va bene Eeeh Il lapis purtroppo E' questa l'altezza Ma non ne ho trovato ancora uno E' incredibile E' incredibile Io non ho parole Non me li sta facendo trovare Eppure dovrei trovarne tanti Qui arriverà qualcosa presto Perché lo sento Come vedete Non c'è E' incredibile Non c'è Non c'è il lapis lazuli Non riesco a trovarlo Non riesco a trovarlo E la cosa mi Eeeh Infuria parecchio Eeeh Dovrò Eeeh Fare un po' di piazza pulita Qua perché ho lasciato Vedete troppa roba Madonna quanto ferro Eeeh Adesso Off camera Raccolgo tutto Eeeh Adesso è più che altro Per farvi vedere cosa trovo Dopo lo raccolgo Io Eeeh Vorrei assolutamente Trovare Il lapis Ma non riesco a trovarlo Va bene Adesso off camera Mi sistemo un attimo Eeeh Raccolgo tutta sta roba Qui che devo raccogliere Eeeh Ci vediamo dopo Che vi spiego un po' le cose Dai facciamo così Allora un piccolo aggiornamento Ho fatto pulizia Ho preso quello che Oddio ho tirato via il piccone Eeeh Quello che dovevo prendere Ho Raccolto qua Non mi ricordo la resta Non cosa ci fosse E ho trovato dello smeraldo Vediamo quel piccone Eeeh Che non ho usato Perché sono un coglione Eeeh Mi ha dato questo qui E pensavo di averlo usato Invece l'ho buttato via E mi ha dato l'altro Vabbè pazienza Eeeh Purtroppo è data così Qui non c'è niente Eeeh Ho trovato Allora ho messo un po' a posto Perché avevo un gran casino Non l'ho svuotato Mi sono scordato Adesso qui Mh Ho compresso la cobblestone Così almeno Sono a posto Adesso comprimo anche la redstone Così mi metto un attivo a posto Stavo vedendo se devo comprimere anche il carbone Eeeh Ma non credo Eeeh Eeeh Meno male che mi sono portato dietro questa Eeeh E almeno così Mh Non ho problemi Perché se no con lo spazio Incominciavo ad avere problemi Meno male che Eeeh Ho ci ho pensato Perché questo non me l'ho messo Perché sono sette Niente Io continuo perché il lapislazzoli Non lo trovo E' incredibile Sono all'altezza giusta Ma Non ne ho trovato per niente Ed è strano Continuo a sentire mostri Ma Il lapislazzoli Non ne vedo proprio l'ombra Eppure sono Oddio Stavo guardando all'altezza Sono a livello Eccolo L'avete visto? E' lì Oh si Che bello E' meno male Perché se no Erano proprio cavoli amari Eeeh Adesso come minimo Muoio quelle 40 volte Perché figurati Non ho portato neanche il secchio d'acqua E qui C'è un sacco di gente Allora Vediamo di fare le cose Non dico intelligentemente Perché sarebbe un passo troppo avanti Però Di fare le cose con un po' di criterio Guardate quanta roba c'è A poco devo riparare C'è Più vado avanti E più trovo roba E' una cosa incredibile Eeeh Ce n'è ovunque Eeeh Dopo a me piace prendere le cose Ma non cadere nell'acqua Che quella è una cosa che non mi piace per niente Ok Devo fare in modo che Non faccio una brutta fila Ve lo faccio vedere Perché tanto Ancora non l'ho fatta Si l'ho fatta la figura Ma sapevo io che C'era lo stronzo Che mi faceva qualcosa Porca miseria Mi sono caccato in mano Ragazzi Meno male che c'era l'acqua Eeeh Dicevo di essere morto Doveva arrivare Lo scheletro Fettentore Maledetto Che mi doveva sparare Dove sei finito Te sei morto Perché qui c'era la lava Allora E' rischioso andare lì Non ne vedo altro Di lapislazuli Però l'altezza Come vedete è questa Facciamo che non rischio Eeeh Perché ho già rischiato E vado a vedere Se lo trovo da altre parti Eeeh Perché Ho già rischiato Di morire Qui c'era troppa roba Se può cadere nella lava Riprendere la mia Tomba Sarà un vero casino Poi ritornare Proprio qua Sarà un vero casino Quindi Io direi Di proseguire un altro po' E vedere se ho un po' di fortuna Comunque abbiamo visto Che l'altezza è quella Giusta Eeeh Bisogna avere un po' di fortuna Purtroppo Non mi sta aiutando la fortuna Perché Ce l'ha proprio morto con me Eeeh Quindi Non ne ho trovato neanche un po' Perché appena lo trovo Me ne da un sacco Perché Ho questa fortuna Esagerata Eeeh La fortuna che è esagerata Mi aiuterà sicuramente Come avete visto Mi ha aiutato fino adesso Oddio Ho sbagliato a usare Il Eeeh Ho troppa roba L'adventario Dopo succede così Andiamo ancora un altro po' Perché devo usare Perché devo usare 50.000 cose Eeeh Ok Però ancora di lapislazzoli Non ne vedo l'ombra Vediamo un po' così Niente E' incredibile ragazzi Non c'è lapislazzoli Io non so più come fare Sono un po' avvilito Vediamo un po' Tanto questo Oh Si è rotto il martello Che adesso riparo Però adesso c'è Ah Aspettate che io Non voglio fare la cacata Perché come sapete Io di cacate Le faccio sempre tante Una di queste E non l'aveva portata La Tool Forge Sono più che sicuro Di averci l'avuta Però non la vedo La Tool Station Perché la Tool Station Non la vedo Porca di quella miseria Tool Station Mi tocca farla così A mano Incredibile Io non ci posso credere Che sia successo a me Allora Vediamo un po' così Mi serve gli stick Mi serve la legna La legna La legna Adesso facciamo così È incredibile Io non ho parole Non ho parole Veramente non ho parole Allora Facciamo così Poi La Tool Station Devo fare questa Devo fare questo Devo fare questo E devo fare un'altra cosa ancora L'importante La crafting È veramente Incredibile Che mi sia dimenticata questa Ok Allora Questa qui Che serve per riparare Adesso mettiamo questo Che ci va L'Ossidiana Che l'Ossidiana Ce l'ho qui Che l'ho lasciata tutta quanta Da qualche altra parte Perché ne ho solo qui Ah Ossidiana Ok Mamma mia Mettiamolo a posto L'Ossidiana E ripariamo questo Questo ci vorrà il bronzo Il bronzo Il bronzo Il bronzo ce l'ho sempre da parte Che lo porto sempre dietro Perché non si sa mai E lo riparo Abbiamo riparato tutto Ragazzi Abbiamo riparato tutto E adesso vado A prendermi la roba Mamma mia Quanta roba Che devo mettere a posto È incredibile Vediamo un po' Questo qui Ah la tool force Sapete dove l'ho messa Mi sono ricordato adesso L'ho messa qui dentro Porca miseria Quando bisogna essere Incoglioniti Io ci sono sempre Allora stavamo dicendo C'è il diamanto C'è il diamanto Che prima di tutto Prendiamo questo Con quello là E il diamanto Stavolta non voglio fare La cacata Oh Quanti ne ho dei diamanti 17 qua E 3 turo qua Avete visto Quanti ne ho presi Finalmente I diamanti Non abbiamo più problema È la cosa incredibile Che io debba avere problemi Di lapislazuli Quando ho trovato Così tanti diamanti Una cosa mi sconvolge Oro Mi sembra giusto Di trovarlo A questa altezza va bene Ma il lapislazuli Continua a non esserci Io Spero di trovarlo Adesso vado avanti Off camera ragazzi Perché Non è che posso Tediarmi tanto più Di tanto Continua ad essere lì Con il lapislazuli Se continua così Non incomodo Sarà andare lì Perché Non ne vedo Altra di soluzione Qui Prima di morire Vorrei Esattamente Fare una cosa Non dico intelligente Ma vagamente Utile Ok Scendi Oh Finalmente Adesso Facciamo una cosa così Qui ce n'è Altra di acqua Perché figuriamoci Se ci Che è successo Mi sono caccato in mano Figuriamoci Se non c'era Un altro po' di acqua Allora Vediamo un po' Che non sia troppo in là Qua Qua Oh me l'ha data Meno male Alleluia Allora Il lapislazuli È lì Guardate che cavolo di giro Mi tocca fare Per prenderlo Io andrei così Così sono tranquillo E andrei così Così salgo un altro po' Ok Prendiamo questo Con quello Benissimo Benissimo Il cavolo Perché Qui sono messo Come il porco Allora Bene Almeno mi sono liberato Stavo dicendo Ricominciavo da capo Andiamo qua Così vi faccio vedere Quanto ne prendo Il lapislazuli Eh vabbè Questa dai Tanto non ci serve Andiamo avanti Dovrei esserci quasi In teoria ci sono Allora Vediamo un po' Dove Senza morire Perché qui E io sono unico Per morire Però dovrei avere Un po' di ghiaia Non ho la ghiaia Non mi ricordo più Dove fosse Il posto Eccolo Oh guardate che culo Allora Il live taglio È pieno Perché tanto succederà Sicuramente così Quindi tolgo un po' Di roba Eh la ghiaia Ce l'avevo qui Adesso Facciamo una bella cosa Perché io Figure di merda Ne ho fatte già Abbastanza oggi Vorrei evitare Di farne tante altre La lava mi serve E sarebbe bello Tornare qui Ma tanto In questo gioco Si trova Ma quanto è profondo Sto lago Avete visto? Mamma mia Ma no Porca caccia La miserix Allora Ok Vediamo di fare Una cosa Che non sia una cacata Tanto qua Non mi dovrebbero Diciamo Ammazzare Ci sono andato Molto vicino Prima Mi sono salvato Soltanto perché C'era l'acqua E speriamo che Non mi debba Pentire di essere qua Perché non sono riuscito A trovare il lapislazzoli A me mi serve Questo lapislazzoli Sarà poco anche quello Perché ce n'è solo uno Di solito Ce ne sono sempre tanti Che non debba trovare Il lapislazzoli Io questa cosa Non l'ho Uno Ma vi rendete conto Che me ne ha dato uno? Vabbè Proviamo così Vediamo di avere un po' di fortuna Ecco Ne ne è anche caduto un po' 15 Con uno 15 Pensate se ne trovo 3 o 4 Quanto me ne dava Porca miseria So che con 15 Non ci faccio niente Perché mi servono 5 blocchi Niente ragazzi Facciamo che Ci salutiamo qui Perché questo video è tutto Io l'ho fatto davvero Lunghissimo il video Mi arrangio Guardate che bastardi Mi arrangio a cercarlo Perché non mi ne vado da qui Finché non lo trovo Vi faccio vedere la clip Quando lo trovo Nei prossimi episodi E poi ci siamo a posto Niente per adesso Vi invito a lasciare un like Un commento se mi piace la serie E fammi un po' sapere anche la vostra E ci vediamo al prossimo video Salutele Shiba Ciao ragazzi